Report condotto da Sigfrido Ranucci su X. 19 gennaio 2024. Fratelli d'Italia contro report per le inchieste sul presidente la russa e sul padre della presidente del Consiglio Meloni. Firmata in Commissione e di Vigilanza RAI un'interrogazione per chiedere intervento contro la trasmissione condotta da Ranucci. Questi destri se non fasci ma soprattutto loro. Si comportano sempre benino, o cercano di farlo, bonton, cercano di mantenere la calma, sembrano civili e rispettosi dell'interlocutore. Si dicono rispettosi delle leggi dello Stato e chiedono che tutti lo siano. Sempre che non siano indagati loro stessi. NDR 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 NDR